Mauro Berrutto, non tutti i mali vengono per nuocere, qualche assenza però chi c'è stato ha dato dimostrazione di essere entrato a pieno nello spirito di questo europeo? Sì, naturalmente lo diciamo dopo due vittorie, quindi con la consapevolezza che comunque le gare sono andate bene e quindi questi piccoli o grandi contrattempi, non vada sottolineato che abbiamo perso al di là del valore tecnico in queste due gare il capitano e il vicecapitano, i due giocatori di grande riferimento e di grande esperienza in questo europeo a fronte degli otto esordienti, però guardiamo assolutamente il lato positivo della medaglia perché questi minuti di campo e queste due vittorie ottenuti con una squadra oggi davvero molto molto giovane e probabilmente ci saranno cose che ci torneranno utili più avanti abbiamo sicuramente molti giocatori disponibili e pronti in questo momento Un momento di appannamento nel primo set, merito anche dell'avversario che comunque forse in quel momento ha dato tutto, però una buona reazione dal secondo Sì, una partenza un po' lenta, complici mille cose, una delle quali è il merito degli avversari che in quel set hanno battuto molto bene, ci hanno messo in difficoltà a partire la ricezione Noi siamo arrivati, ripeto, siamo partiti un po' con il motore diesel e non con quello a iniezione però sono d'accordo, buona la reazione, buona anche la qualità delle cose poi fatte successivamente ancora una buona prova dei centrali, insomma in tutti i fondamentali noi ne abbiamo bisogno perché ovviamente questi giocatori devono crescere nel corso di questa manifestazione e buono l'attacco che è il fondamentale che alla fine ha fatto la differenza Grazie a tutti!